E' un momento ritualmente magico, quello per cui ospitiamo questo incontro in occasione dei 50 anni del Festival di Sant'Arcangelo con Antonio Attisani e con la moderazione, la moderazione, la nota moderazione di Roberta Ferraresi, perché pur non avendo avuto un rapporto continuativo con il Festival di Sant'Arcangelo, l'ultimo che c'è stato è Ferdinando con un concerto con il La Cruz, nessuno ha avuto un rapporto continuativo, il nostro rapporto data però in un momento storico, il Festival di Sant'Arcangelo è stato un momento di svolta nella storia dell'elfo, perché è stato il momento in cui noi ci siamo separati da Gabriele Salvatore se abbiamo iniziato una nostra indipendente attività di lavoro e Sant'Arcangelo ha aspettato i primi due lavori di questo esperimento, Nemico di Classe e Faust Game. C'è stata anche una nostra andata a Sant'Arcangelo con Leo, che aveva in un'occasione particolare quello che si chiamerebbe un evento adesso, c'era tantissima gente, si saliva sul palco, si faceva una cosa e si scendeva. Sì, ci ha chiamato perché appunto, oltretutto, mentre allora si ergevano barriere ufficialmente, pubblicamente, fra i teatranti, come sanno benissimo gli amici delle Albe, noi invece di barriere non abbiamo mai avuto, siamo sempre dei rapporti di fraterna amicizia al di là degli steccati e dei generi, e abbiamo sempre trovato, e il fatto che Sant'Arcangelo sia stato in quel momento abbia colto il passaggio fondamentale è anche fragilissimo, perché passare da sette anni di lavoro con Gabriele Salvatore a un'avventura nuova non era per niente facile, e quindi ce lo ricordiamo. Inoltre, al di là del fatto che adesso si è ricementato un'amicizia di recente con Antonio e faremo anche un lavoro che è colpa sua insieme a Cesar Bri, perché nasce da sue ricerche, ma Antonio ha scritto per il quotidiano dei lavoratori un articolo che all'elfo ha avuto molta forza, è rimasto impresso, lui non se lo ricordava più, noi sì, che era un articolo che diceva se vogliamo evitare i difetti delle famiglie reali europee, di eccessi di rapporti di consanguineità, i gruppi devono mischiarsi, cioè l'esperienza dei gruppi deve andare, girare, e questo ci ha messo molto tempo ad affermarsi com'è, ma non devono mischiarsi tra loro gruppi, devono mischiarsi con... Peraltro, se non sbaglio, da Sant'Arcangelo arrivavano anche i magazzini criminali in un momentaccio terribile, la famosa stupida storia del cavallo, e in un momento di ostracismo generale del teatro italiano e di grande conformismo purtroppo, i magazzini criminali l'autunno dopo hanno presentato lo spettacolo da noi. Abbiamo fatto una telefonata a Federico e a Sandro dicendo in questo momento in cui tutti vi cacciano dai teatri, noi vi accogliamo, erano stati cacciati dal CRT e noi vi accogliamo, anche lì è nata un'amicizia veramente formidabile, non ci eravamo mai incontrati, se non in occasioni pubbliche, e lì proprio è nato, dopo Sant'Arcangelo, questa questione. E dicevo, molti degli artisti dei gruppi di allora sono diventati, hanno fatto percorsi straordinari all'interno del teatro italiano, o dentro con la loro storia di realtà, o mischiandosi con altre in realtà facendo interessantissime operazioni e diventando poi protagonisti di fatto della scena italiana senza più limiti e questo ricambio nel teatro noi non ce ne accorgiamo, perché ci sembra ancora di fare una fatica immensa, ma è la più grande risorsa che il teatro di quegli anni ha dato alla scena di oggi, perché se non ci fossero stati quegli anni la scena di oggi sarebbe molto povera e si sarebbe estinta. Dopodiché, come dice, i 50 anni di Sant'Arcangelo noi li ospitiamo perché, come dire, ci è arrivata una richiesta, ci sembra molto bello che sia qui, qui c'è il nostro manifesto che forse lo cambieremo fra un po', ma là sopra c'è il vero manifesto di questo teatro, il teatro dovrebbe essere soltanto un incontro di esseri umani, tutto il resto serve solo a confondere ed è di Ingmar Berman, anzi per dirla giusta, Ingmar Berman e credo che sia la fase più bella che si possa dire del teatro, noi viviamo dentro quella frase e molti artisti del teatro vivono dentro quella frase, al di là di poi come vengono descritti nei libri di testo e accademici i loro rapporti, perché sono rapporti di fraternità e lo vediamo in continuazione, tra l'altro sono in prova, Ermanna è in prova, Ferdinando è in prova, ci siamo dimenticati che stiamo rovinando le prove dei debutti agli artisti, però non c'era altra data per farlo e quindi benvenuti e adesso io invece devo scappare perché anche lì destino strano, per una strana serie di circostanze io domani ad Abu Dhabi leggerò i versi di Mariangela Gualtieri al femminile, cioè dirò tutto al femminile perché non si può leggerli al maschile, sono stato cooptato da Silvia Colassanti e il suo quartetto d'archi per leggere quei versi e Mariangela ha fatto una suite della sua opera poetica per raccontare la terra, walking on new earth si chiama il pezzo in inglese, qualcosa in inglese tutto resta in italiano, già già c'è il fatto di fare Mariangela che mi sembra una cosa impossibile dato il mio fisico, io non ho mai sentito dire un verso se non da lei e quindi l'esperienza è traumatica, non so perché, però quando me l'han detto io non ho detto di no, perché? perché io stesso mi mischio, mi mischio con lei e sono felicissimo di fare, poi con Silvia Colassanti che è un'artista che prima ha lavorato con Fernando Bruni poi ha lavorato con me, è diventata anche lei una grande amica perché anche i generi musicali e teatrali si superano con una forza incredibile di appartenenza al mondo del teatro d'arte, della musica e questa è la forza che ci anima a tutti, grazie. Grazie a voi, io vi saluto, vado da Chekhov e io vado da Mariangela Gualtieri e da Silvia Colassanti. Fine, arrivederci. Ciao a tutti. Grazie mille. Allora vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento di Costruire una storia che è un ciclo di incontri che con il Festival di Sant'Arcangelo stiamo organizzando in vista della cinquantesima edizione che cadrà nel 2020, incontri che hanno come protagonisti le persone che negli anni hanno diretto questa manifestazione. Antonio Attisani è stato direttore due volte, nel 1981 per un solo anno e poi dall'89 al 1993, in un passaggio storico estremamente delicato e significativo per il teatro ma non solo, per la cultura, la società, la storia italiane. Vorrei cominciare proprio dalla prima edizione che hai diretto, nell'81, si intitolava Mestiere e sentimenti e chiederti anche per introdurre cos'è e cos'era il Festival di Sant'Arcangelo in quel momento, come si presentava al momento del tuo arrivo come direttore, come si presentava il Festival fra anni 70 e 80 e quali erano le intenzioni con cui ti sei avvicinato a questo nuovo lavoro per l'edizione dell'81? Cerco di rispondere brevemente. Hai giustamente richiamato il titolo che abbiamo dato a quel Festival, Mestiere e sentimenti. posso rispondere brevemente spiegandovi il perché di quel titolo. Negli anni precedenti, in Italia, si era creato un imponente movimento, era nato un imponente movimento di gruppi teatrali che si erano formati al di fuori da ogni accademia, scuola, ma al di fuori dei rapporti istituzionali canonici deputati alla trasmissione del sapere teatrale, gruppi di base, eccetera, ma anche il cosiddetto terzo teatro. Centinaia e centinaia di gruppi, migliaia e migliaia di persone che si affacciavano al teatro con un progetto di un'idea, no, un'idea no, le idee erano tante e confuse, con una tensione a fare teatro e a farlo in forma di lavoro collettivo, di lavoro comunitario, di lavoro duraturo, di lavoro che avesse anche un aspetto sperimentale e che fosse, che si potesse esercitare fuori, lontano dai luoghi canonici delle istituzioni teatrali. Questo movimento, in una condizione storica differente da quella di oggi e relativamente al teatro, potremmo paragonarlo, per capirci, a quello delle sardine. Cioè le sardine cosa sono? Sono l'espressione di un malcontento che si risvolta in positivo, no? Che diventa un sentimento, una domanda. Ecco, quelli erano i sentimenti, i sentimenti a fronte dei quali a me pareva necessario porre la questione del mestiere, cioè la questione della competenza, la questione della professionalità, anche se questa professionalità doveva avere una definizione nuova. E allora per creare un clima di lavoro fertile, in questo senso, pensai di invitare al festival gruppi provenienti da diverse parti del mondo, che rappresentavano diversi aspetti, diversi approcci alla professione teatrale. Questo presuppose il fatto che i gruppi del cosiddetto terzo teatro, che dal 78 all'81, alla vigilia dell'edizione da me diretta, si erano impossessati, ma in senso positivo, del festival, lo avevano trasformato. La direzione di Bacci è stata una svolta decisiva, molto positiva, assolutamente propulsiva. Però Bacci si era reso conto, dopo un triennio di direzione, di non poter proseguire, di non poter andare avanti. E per questo aveva incaricato me proditoriamente, che mi sono ritrovato a cambiare mestiere, perché fino allora dirigevo una rivista. Dunque io consideravo i gruppi del terzo teatro come dei simbolici padroni di casa, ma ritenevo che sarebbe stato giusto invitare molte altre esperienze teatrali, appunto, di tutto il mondo, perché si confrontassero tra di loro in modo da porre in modo concreto e in un rapporto di, appunto, di incontro, come diceva bene Elio, l'incontro non è mai, l'incontro non è una cosa pacifica e consolatoria. L'incontro può essere anche una cosa difficile, l'incontro passa attraverso una miriade di incidenti, eccetera. Quindi sapendo di rischiare, in questo senso, invitare molte altre realtà teatrali. Alla fine di un festival, di un'edizione che andò benissimo da tutti i punti di vista, anche da quello degli scazzi, delle liti, dei confronti, delle diffidenze, nel senso che ce ne furono molti, le quattro compagnie allora canoniche che costituivano una sorta di Vaticano del Terzo Teatro, decisero che non ero stato degno della loro fiducia e del loro mandato, per cui fui praticamente cacciato una settimana dopo, ci sono tutti i documenti d'archivio che lo provano. Questo è un po' l'81 in sintesi estrema. Ok, ti chiedo una cosa in più, perché quando si parla di incontri, uno degli incontri forse più sorprendenti, almeno a leggere la rassegna stampa di quell'edizione lì, è quello con Laurie Anderson, che non era ancora la star della sperimentazione come la conosciamo adesso e che scompagina profondamente gli equilibri delle tendenze teatrali che in quel momento, perché magari non lo ricorda, in Italia erano veramente molto netti tra postmodernismo e terzo teatro, teatro istruzionale e di sperimentazione, eccetera. Se vuoi raccontarci perché, come hai fatto a trovare Laurie Anderson e che tipo di lavoro ha portato a Sant'Arcangelo, che ha così segnato l'impressione. Come ho trovato Laurie Anderson è simpatico. Io ero a New York per vedere un po' di cose e dormivo in un alberghetto del Youth Hostel Association, questa è la cosa più economica che ci sia, era una specie di cella con le sbarre alla finestra, il letto di ferro, il televisore incastrato in un coso di ferro, una galera. E ovviamente non dormivo, guardavo la televisione tutta la notte. Ad un certo punto, guardando la televisione, vedo questa creatura bellissima che comincia a parlare con la sua voce di donna e poi a poco a poco la sua voce si trasforma e dico, già, parla in un altro modo. Era Laurie Anderson che usava il vocoder, usava questo strumento che trasforma la voce, la sposta anche di un paio di ottave. e cantava e spiegava quale fosse la sua idea di teatro. Allora cercai subito tramite la mia amica Bonnie Maranka il suo indirizzo, l'andai a trovare, viveva a Canal Street, nel pieno del quartiere cinese, non ancora insieme a Lurid. e vidi una sua performance. Allora la invitai a Sant'Arcangelo e disse, io devi venire. Dunque, erano scelte completamente istintive. Adesso posso dire che cosa mi interessava. Certo, sì, sì, contenuti, questa specie di anti-americanismo molto intelligente, cioè di critica alla società americana, molto intelligente, era importante, certo, certo, certo. Ma quello che mi interessava di più era, che mi ha sempre interessato, l'asse teatrale, cioè l'asse drammatico, la concezione di un teatro, cioè un luogo di conflitti, teatro come luogo di conflitti, come luogo di problemi, che in quel caso si manifestava con un recupero, che allora ci appariva completamente nuovo, dell'immagine, dell'elettronica, della musica e del canto. Era l'inizio di un progresso che si è continuato fino a oggi e che ancora si sta sviluppando. Poi lei ha avuto anche la disgrazia, diciamo così, che l'ha resa poco leggibile al grande pubblico, di avere un successo mondiale con una canzone, che tra l'altro aveva presentato in anteprima Sant'Arcangelo, o Superman. O Superman, Sant'Arcangelo in luglio, diventò un numero uno nella lista dei dischi e delle canzoni mondiale in ottobre. E quindi lei è stata conosciuta in tutto il mondo e anche consumata in tutto il mondo come cantante e performer minimale. Ma in realtà il suo era un percorso teatrale. Questo è il motivo per cui è venuta. Ed è venuta con grande umiltà. Ha fatto un seminario. Abbiamo organizzato la festa del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza americana, la festa con la corsa dei Sacchi, il watermelon, tutte queste cose. Alcuni appunto consideravano tutto ciò magari superficiale, un'americanata. e invece altri hanno capito che questo era il segno di un modo di stare nel mondo, nel mondo di oggi, in quel mondo, in quel mondo lì, che viveva quelle contraddizioni, perché l'81 è anche l'anno del colpo di Stato in Polonia. Poco i giorni precedenti del festival, precedenti il festival, tutti quanti inchiodati davanti alla televisione per 36 ore a vedere Vermicino, in diretta, la morte in diretta. C'era tutta l'Italia in piazza, eravamo a guardare la televisione. Cioè erano momenti di cambiamenti, erano finiti gli anni di piombo, stavano cominciando il decennio successivo che altri hanno definito gli anni di merda. Ma ingiustamente, perché in effetti gli anni Ottanta, poi magari ne parleremo, gli anni Ottanta sono stati anche ricchissimi di fermenti, anche se con difficoltà di tipo nuovo. Quindi la sua presente di Lorentison fu interpretata come una provocazione da parte mia, soprattutto nei confronti del piccolo teatro, dei terzo teatro, cioè questo teatro moralistico, scalzo, serioso, poco professionale, pieno di buone intenzioni, che costituiva più o meno un partito all'epoca, era un partito, non era un movimento, era già un partito, solo che è un partito che, come appunto i partiti del cavolo, come i Cinque Stelle, erano destinati a partiti qualunquisti, durano poco. Comunque questo tipo di aperture apre anche a Sant'Arcangelo una dimensione diversa del teatro molto più, molto molteplice negli anni Ottanta, infatti ne parliamo subito di cosa è successo dopo, volevo chiederti la prima edizione del tuo secondo mandato come direttore artistico, che è un mandato più lungo, più articolato, con un progetto pluriennale, inizia nell'Ottantanove, un anno anche esso piuttosto significativo per tantissimi motivi, soprattutto fuori dai teatri, si intitola questa edizione dell'Ottantanove Rivedere l'Orizzonte, che suona quasi come un programma, poi andando a vedere anche il tipo di scelte che vengono fatte nel merito. Volevo chiederti cos'è successo lungo gli anni Ottanta da questa dimensione di suddivisione interna del mondo teatrale, della sperimentazione in Italia e forse anche fuori dal teatro appunto a voler rivedere alla fine degli anni Ottanta radicalmente l'Orizzonte. Insomma, sono successe un bel po' di cose. Nell'Ottantanove c'è il muro di Berlino, la fine del comunismo, ce n'è di roba, si sentiva sulla pelle. A Sant'Arcangelo, nel piccolo di Sant'Arcangelo, era finita l'epoca dello stradominio del Partito Comunista Italiano. Ti ricordi, Tonino? da questa maggioranza. Era finito, era finito e c'era... Io sono stato, dopo essere stato licenziato, ho evitato il festival per tanti anni, ovviamente. I festival, tra l'altro, non mi piacciono. sono sempre una sindrome di standale, i festival, li trovo detestabili, c'è un sacco di cose da vedere, non sai mai che cavolo vedere, vedi sempre la cosa sbagliata, mai quella giusta. Poi vai via, ti dicono, ma ti sei perso quello. Allora, lo vedi tre anni dopo, dici, ma che è che mi sono perso quello? Insomma, non è una gran cosa. A Sant'Arcangelo ci sono tornato fondamentalmente per due motivi, anzi, diciamo tre. Uno oggettivo, cioè che loro, ad un certo punto, si sono messi a litigare fra di loro, direzione artistica, politici, PSI, PCI, PTC, si sono messi a litigare ferocemente e questa situazione non consentiva di rinnovare il mandato come direttore artistico a Roberto Bacci. E quindi si rivolsero a me e insieme a me ad altre due persone che erano Daniele Brolli e Giorgio Sebastiano Brizio. Giorgio Sebastiano Brizio era anche critico teatrale dell'Avanti e quindi parava, diciamo, un po' dalla parte del Partito Socialista. Daniele Brolli era invece un intellettuale, indipendente, scrittore, eccetera, riminese, tra l'altro. e io ero uno che ci stava. E perché ci sono stato? Ci sono stato prima di tutto perché ero in una situazione soggettiva molto difficile, una situazione lavorativa, non si guadagnava una lira. Fare il critico teatrale, come ero diventato, era una vita molto... e quindi quella è stata un'opportunità di lavoro. Ma il secondo motivo per cui ho accettato è che l'invito a dirigere il festival era contestuale a un'idea, a un progetto di costruire un teatro a Sant'Arcangelo, un teatro che fosse anche residenziale e quindi Sant'Arcangelo sarebbe diventato un centro teatrale capace di realizzare un'attività permanente. Io in quel momento pensavo e lo penso ancora che se in Italia esistessero una ventina di centri teatrali indipendenti diretti né da burocrati né da singoli artisti che ne fanno il proprio covo, la propria casa esclusiva e luogo di scambio con gli altri, ma centri teatrali proprio nel senso promozionale, il problema del teatro indipendente potrebbe conoscere una soluzione degna, decente. Accettai per questo motivo, mi trasferì immediatamente a Sant'Arcangelo, credo di essere stato l'unico direttore che abbia vissuto a Sant'Arcangelo per tutto il periodo del proprio incarico, lavorandoci tutto l'anno e cercando di realizzare questo progetto che ovviamente non si è mai realizzato, perché sono stato un ingenuo, un cretino a crederci. era chiaro che non c'era alcuna intenzione di realizzare. Adesso lì ci sono alcune case popolari, sacrosanta istituzione, per carità, è un supermercato. Ma abbiamo fatto persino l'inaugurazione del suolo, l'architetto seppellì la sua preziosa penna, no? Con Reme Capo, No, con Reme Capo, l'architetto del teatro, Gaudenzi, l'inaugurazione del sito dove dovevano cominciare i lavori da un momento all'altro, sì. È l'Italia, ragazzi, è l'Italia, è il bello dell'Italia. La tensione a trascendere la forma festival, andare verso un'attività permanente, operativa tutto l'anno, è una delle linee, forse la linea diciamo che caratterizza la tua seconda direzione artistica al festival ma è anche una linea più lunga che in realtà attraversa l'intera storia del festival fino a questi ultimi anni qua. Il progetto di Costruire il Teatro è una delle attività in cui questa idea, questa volontà cerca di realizzarsi e poi magari non riesce del tutto però è anche vero che forse con la tua direzione artistica e l'intenzione e la volontà di trasferirsi lì con la famiglia lavorare tutto l'anno è una delle fasi forse la prima fase in cui questa tensione dell'attività permanente comincia a concretizzarsi anche su altre linee che non sono appunto quella della costruzione di un edificio teatrale che non si è mai concretizzata poi magari parliamo anche dei luoghi altri del Teatro Sant'Arcangelo quindi volevo chiederti che tipo di progettualità hai messo in campo perché Antonio ha accettato di dirigere il festival per l'89 con queste altre due persone Broglie Brizio poi gli viene dato un mandato di più lunga durata e ci sono dei progetti diciamo anche di collaborazione con gli artisti che nonostante appunto manchi l'edificio teatrale però hanno una loro continuità una continuità tutto l'anno e negli anni sì rivedere l'orizzonte era appunto il titolo del festival dell'89 rivedere l'orizzonte voleva dire dimenticarsi dell'orizzonte ristretto rompere infrangere l'orizzonte ristretto che si era imposto nel quasi decennio precedente e di nuovo riabbracciare una gamma di esperienze teatrali su scala perlomeno europea Sant'Arcangelo cambiò nome Sant'Arcangelo dei teatri d'Europa è scritto cioè il punto di riferimento doveva essere l'Europa per ricominciare un teatro europeo un teatro di scambi europei in quel senso rivedere l'orizzonte e l'indice degli inviti l'indice degli inviti ribadisce questa cosa dopodiché con le limitatissime risorse del festival non si poteva fare molto allora per il quanto riguarda il primo anno comunque si è deciso in coerenza con lo scopo più alto di un festival che è quello produttivo ora i festival sono per la maggior parte dei cartelloni della gente che invita spettacoli che altrimenti che esistono già che esisterebbero comunque invece il compito di un festival dovrebbe essere quello di produrre cose che altrimenti non potrebbero esistere e questo si poteva fare in pochi casi il primo caso nell'89 fu quello di Marco Baliani e della compagnia di circa di quasi quanti erano? 30-40 attori quasi 40 30-40 attori giovani che lui stesso chiamava attori autori perché molti di loro erano erano attori autori cioè non erano semplici interpreti e poi l'hanno dimostrato con la loro carriera successiva che montarono uno spettacolo un unicum tratto da Calvino nella Villa Torlonia Villa Pascoli e quella era una produzione del festival fu una produzione del festival che si riuscì a fare con una cifra con cui la scala fa un costume peraltro brutta se avete visto la Tosca sembrano dei confetti quella poveretta sembra un confetto però si riusciva in questi in questi in questi miracoli ed erano miracoli vitali perché questi spettacoli nonostante potessero essere discutibili erano per definizione perché erano veramente lavori lavori sperimentali ma erano lavori che mettevano all'opera energie nuove energie che infatti hanno continuato voi leggete adesso i programmi del festival di quegli anni trovate un sacco di nomi noti dicete vabbè allora potreste pensare ma allora era facile prendi no quelli erano sconosciuti sconosciuti Baliani era la sua prima prova con il teatro per adulti aveva solo fatto teatro ragazzi teatro per i ragazzi fino a quel momento e così anche per le Albe fu una grande occasione e le Albe una grande occasione una grande dimostrazione anche di come dire veramente un altro orizzonte mentale un altro orizzonte estetico un altro orizzonte etico il lavoro con gli immigrati provenienti dal Senegal la dislocazione dello spettacolo in uno spazio fuori Sant'Arcangelo all'aperto assolutamente anomalo e anche difficile da gestire sempre con i limitati mezzi perché per gestire i vasti spazi ci vogliono mezzi imponenti e noi siamo riusciti in un certo senso a fare le nozze con i fichi secchi sono riusciti loro sono riusciti a fare le nozze con i fichi secchi e si è ricominciato a vedere l'orizzonte e l'orizzonte poi si sposta continuamente l'orizzonte oggi è arricchito da molte di quelle presenze devo dire ieri ho visto quel programma dell'89 per la prima volta da allora non ce l'ho adesso l'ho preso ci sono anche alcuni nomi che sono scomparsi ma questo non significa che siano state esperienze fallimentari sono scomparsi qualcuno si perché ha capito onestamente che il teatro non era la sua strada ed è andato a fare altro ma molti sono scomparsi nel senso che si sono si sono inseriti in altre esperienze in altre storie magari anche di carattere strettamente teatrale o magari anche di altro di altro carattere sempre nell'ambito nell'ambito culturale e soprattutto dello spettacolo e quindi che ci sono ancora hanno fatto l'orizzonte successivo Sant'Arcangelo non è stato ovviamente l'unico protagonista di questo processo è stato uno dei protagonisti di questo processo un catalizzatore allora si poneva la questione anche che si pone ancora oggi cioè il teatro non è un'attività che possa esistere senza aiuto pubblico non è un'attività che possa esistere sul mercato punto e basta soprattutto quando ha certe caratteristiche certe caratteristiche qualitative allora Sant'Arcangelo era proponente di un'idea anche legislativa che uno dei progetti di legge che allora pullulavano i progetti di legge uno dei progetti di legge che allora furono formulati avanzati e che sembrava alla vigilia di essere approvato aveva addirittura adottato l'idea cioè che si dovesse distinguere serenamente in Italia fra tre tipi di teatro il teatro pubblico il teatro privato commerciale e il teatro indipendente tre tipi di teatro tre generi di teatro che avrebbero dovuto essere assoggettati a regimi diversi dal punto di vista fiscale e dal punto di vista delle sovvenzioni per quanto riguarda il teatro indipendente si proponeva che non di stabilizzare le compagnie questa è un'idiozia perché questo significa decidere sul valore della gente invece si proponeva di creare appunto un centro Sant'Arcangelo dovrebbe essere uno di questi centri un centro teatrale non gestito da una compagnia non identificato con una identità artistica e che ospitasse ospitasse diverse realtà teatrali le ospitasse per la produzione quindi c'era prevista una foresteria il fatto che ci si potesse abitare e lavorare a lungo e poi anche che svolgesse quindi un lavoro di ospitalità di programmazione vera e propria in questo senso restituendo anche un servizio al territorio perché i festival sono una roba politicamente perversa anche in questo senso sono e li fanno i migliori i festival li fanno i migliori diciamo i poteri pubblici migliori meno peggio fanno i festival però sono una cosa perversa perché significa investire pochi soldi in una iniziativa concentrata nel tempo che fa parlare di sé che da molto riscontro stampa almeno allora lo dava riscontro di consenso e che però ti esime dal fare una politica culturale tutto l'anno per i tuoi cittadini porca vacca perché bisogna lavorare per i propri cittadini per il proprio territorio per il proprio contesto bisogna offrire alla propria popolazione qualcosa che ci sia sempre non si può fare una settimana all'anno di festa e tutto il resto quaresima perlomeno in questo senso e quindi c'era questa idea e questa idea è una delle altre idee forse velleitarie indubbiamente velleitarie presuntuose di fatti mi ridevano dietro già allora non tutti e hanno avuto ragione hanno avuto ragione perché non si è realizzato niente di tutto ciò in Italia sì poi ci tengo a sottolineare per chi non lo sapesse che queste cose queste prospettive sui festival l'Antonio le scrive cioè non solo le diceva ma più vicina più attaccata così goditela goditela le scriveva già all'epoca e prima cioè tra le due direzioni artistiche e anche durante quindi queste posizioni critiche sul festival come festa come via facile delle amministrazioni per avere dei momenti di intrattenimento che attirano l'attenzione e poi niente volevo chiederti se puoi riprendere la definizione di teatro indipendente perché secondo me è una formula che io pensavo di sapere di che si trattava che risuona in maniera molto facile oggi però che aveva una connotazione molto specifica in quel momento lì cioè il rapporto a un teatro pubblico che andava in una certa direzione un teatro commerciale in un'altra e cosa entrava quali erano gli interlocutori gli artisti che potevi comprendere e che poi appunto sono stati anche a Sant'Arcangelo in quest'idea di teatro indipendente ce ne erano a decine a centinaia e avrebbe fatto parte del teatro indipendente chiunque avesse scelto di giocarsela in quel modo l'avventura teatrale quindi in sostanza significava pensare a un regime che guardasse più alla defiscalizzazione che alla sovvenzione cioè che non si pagassero che si pagassero meno tasse che ci fosse una indennità di disoccupazione con un regime simile a quello francese sapete il regime francese tu hai due mesi di contributi gli altri dieci mesi di salario te li paga lo Stato e questo mette alla prova e consente alle compagnie consente alle compagnie agli attori i registi i creatori a vario titolo di lavorare ma di lavorare non facendosi mantenere di lavorare però misurandosi sull'esito questo è fantastico è quello che ha consentito al teatro francese quella ricchezza quel rinnovamento continuo nel teatro francese c'è continuamente i trentenni sono continuamente in primo piano sono continuamente alla ribalta invece in Italia non è così in Italia rischi di morire giovane oppure di invecchiare e far morire i giovani i giovani che seguono quindi un regime di chomage di disoccupazione un regime di defiscalizzazione e una rete di centri chi dovesse potesse farne parte non era questione da decidere appunto come nel caso delle sovvenzioni come ancora oggi perché le sovvenzioni vengono decise con poteri ampiamente discrezionali da organismi ministeriali che decidono a chi dare quanto no? ma che in base a una serie di di automatismi diversi da quelli che concernevano il teatro pubblico che funziona in un altro modo deve funzionare e anche il teatro privato perché anche il teatro privato ha bisogno in qualche modo di incentivi ma in una logica completamente diversa so che non ti ho risposto ma non voglio fare un elenco di nomi però almeno almeno un 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 organizzato con Raymondi Caporossi questo diciamo è uno dei progetti importanti del triennio che poi è intitolato lavoro d'arte comune all'intero triennio anche questo molto significativo tra il 90 e il 92 in realtà 90 e 91 perché poi vabbè direi tu il terzo anno il terzo diciamo passo di questo progetto non è riuscito a realizzarsi a concretizzarsi Raymondi e Caporossi lo sapete sono delle presenze erano delle presenze assolutamente anomale nel teatro italiano due artisti a tutto tondo che hanno realizzato una serie di spettacoli memorabili degli unicum però da un punto di vista della politica culturale loro erano un'eccezione che dovrebbe essere una regola due artisti indipendenti che lavorano in posti diversi realizzando dei progetti che su base assolutamente non commerciale nel nostro caso il primo progetto fu veramente una creazione profetica era uno spettacolo quasi muto che durava un'ora o poco più nel quale una quarantina di attori provenienti da diverse compagnie e che poi hanno fatto carriera in diverse compagnie come autori di teatro a tutto campo eccetera il loro lavoro consisteva in un modo molto poeticamente ritmico ritmicamente poetico nella costruzione di un enorme muro di valigie nel 1989 un enorme muro di valigie di cartone e finiva in un silenzio abissale abissale soltanto qualche cretino provava ad applaudire è uno di quei lavori che soltanto delle occasioni come i festival quando i festival sono vivi possono realizzare che non si sarebbe potuta realizzare in nessun'altra circostanza concedere alla follia alla visionarietà degli artisti lavorare è chiaro che facendolo poi si fanno anche degli errori si possono produrre cose sbagliate cose non riuscite è successo anche questo per carità ma non riuscite in che senso non riuscite perché l'esito immediato il riscontro immediato non c'è stato in termini di piacere in termini di consumo ma sono stati esperienze capitali anche quelle che nell'immediato possono essere considerate fallite sono state esperienze capitali per chi le ha realizzate e per chi ci vuole riflettere per chi ci vuole per chiunque ci voglia riflettere chiunque pensi il teatro studi il teatro sono esperienze importanti ora il panorama è molto cambiato allora si è molto seminato e oggi qualcosa di questo seminato si vede c'è in tutto il mondo c'è un significativo movimento di compagnie teatrali che sta nascendo compagnie teatrali che si intendono non più come comunità ma come associazioni non gente che vive insieme ma gente che lavora insieme associazioni che lavorano di gente che lavorano insieme che lavora insieme per tanto tempo ma non per sempre fino a che uno magari non trova fino a che uno trova la propria ragione di esserci persone compagnie composte le più propulsive di queste compagnie sono quelle composte da persone che provengono da diverse tradizioni culturali e a volte anche da diverse etnie diverse nazioni diversi popoli perché questa è una cosa fondamentale ogni genere oggi ogni gender è in decadenza questo culto dei gender è una delle pesti del nostro tempo che sia il femminismo oppure il teatro di un certo tipo è una delle pesti del nostro tempo il vero lavoro da fare è transgender nel teatro bisogna riportare il teatro è già di natura transgender perché in teatro uno si mette alla prova e scopre quello che è scopre quello che può fare quello che sa fare trova la propria strada che a volte diverge dal teatro il secondo elemento il terzo elemento che si sta restaurando è il il laboratorio cioè accanto al lavoro di creazione delle opere c'è un lavoro un tempo dedicato alla formazione un tempo dedicato all'esercizio quotidiano la costruzione dell'habitus l'esercizio come costruzione dell'habitus è un tempo dedicato alla sperimentazione anche la più gratuita la più estemporanea e infine questo fronte nuovo di compagnie di realtà teatrali è il luogo in cui si sta con più o meno coscienza con più o meno consapevolezza con più o meno investimento sistematico di intelligenza ma è comunque il luogo in cui si sta procedendo a una quella che noi chiamiamo la riunificazione delle arti dinamiche cioè un teatro nel quale la recitazione quello che si chiamava la recitazione il canto la danza la poesia si fondono ma non si fondono come nel musical perché nel musical non si fondono sono semplicemente compresenti vanno benissimo anche i musical per carità ma si fondono qui c'è un altro lavoro che si fa con la consapevolezza cioè che ogni arte contiene tutte le altre arti e che al di là dell'accento che si pone su un elemento poniamo elemento coreografico oppure l'elemento parola al di là dell'accento che si pone su ognuno di questi elementi il vero lavoro di ricostruzione del teatro oggi nell'universo mediologico è un lavoro di ricongiunzione di tutte le arti dinamiche ricongiunzione di poesia coreografia canto recitazione cioè di ricostruzione di questa idea fondativa del teatro come musica del teatro come musichè è un'idea antica è un'idea antica e tra l'altro non è neanche solo della della civiltà occidentale non è solo un'idea di Aristotele è anche un'idea del Natia Shastra è anche l'idea del teatro no e di Zeami teatro come musichè teatro nel quale queste facoltà e laddove l'attore l'attore quello che Grotowski chiamava l'attuante l'attuante è la traduzione della parola greca poeta è il poeta l'attuante è colui che fa poeta è colui che fa non colui che dice è colui che fa la poesia no e quindi c'è sta succedendo questo nel mondo nel mondo sta succedendo questo ci sarebbe il lavoro da fare dovrebbe consistere nel aiutare nel favorire questo movimento nel favorire la crescita di questo movimento sempre sempre tenendolo a confronto con le grandi tradizioni con le grandi tradizioni conservative per esempio con la grande tradizione italiana del teatro di interpretazione noi italiani abbiamo insegnato al mondo ai russi agli americani l'interpretazione il lavoro di interpretazione l'attore interprete l'abbiamo insegnato al mondo noi l'abbiamo insegnato al mondo sanislavski mercold teorizzano cose che hanno imparato dagli italiani le sviluppano ovviamente sono dei geni a loro volta no e quello è un altro modo quindi bisogna tenerle tenerle e se ci pensiamo bene se andate a rileggere gli scritti postumi di Nice trovate esattamente questa indicazione perché dice ad un certo punto fa una sorta di autocritica e dice sì l'attore dionisiaco che io invocavo nello Zaratustra diciamo contro il commediante in realtà no non va bene è un potenziale suicida l'attore bisogna che l'attore sia anche un po' commediante cioè che non si prenda troppo sul serio perché se si prende troppo sul serio va a finire male adesso detta in soldoni visto che dobbiamo chiaro quindi qualcosa si è seminato qualcosa è nato qualcosa sta succedendo e ci sarebbe molto da fare volendo stanno succedendo un sacco di cose belle nel mondo bisognerebbe rimetterle nell'orizzonte metterle nell'orizzonte posso chiedere un'altra cosa controlla tu ti chiedo un'ultima cosa poi magari diamo la parola anche alle persone che sono qui se vogliono chiedere o fare qualche intervento questo tipo diciamo di aperture aperture all'interno del mondo teatrale fra anni 80 e 90 però anche aperture verso l'esterno del teatro verso altri contesti che all'epoca vibravano di pulsioni nuove forti nella musica nel pensiero in ambito geopolitico a volte non solo durante le tue direzioni artistiche ma forse lì è la prima volta che capita portano anche o a delle ricadute inaspettate dicendolo in maniera soft anche degli scandali perché l'incontro come dicevi prima c'è un rischio di conflitto e quando in questa dimensione di transdisciplinarietà di attraversamento tra ambiti differenti alcuni cortocircuiti forti ci sono stati vorrei dire praticamente quasi tutti gli anni però ogni anno ci sono state diciamo delle aperture oltre la forma festival oltre la presentazione di spettacoli opere arti sceniche nelle tue direzioni artistiche che hanno portato all'incontro con l'altro l'altro dal teatro e che hanno segnato in maniera forte quelle edizioni ogni anno c'è stato uno scandalo è vero d'accordo ma perché perché ragazzi dove c'è libertà c'è conflitto più c'è libertà più c'è conflitto più c'è democrazia più c'è conflitto ovviamente chiunque può prendere la parola e dire ma che cavolo fai come ti permetti di invitare un fascista a fare uno spettacolo al festival sì chiunque può farlo come ti permetti di invitare i tibetani che le loro pretese di indipendenza quando invece sono stati civilizzati dai cinesi che hanno soltanto dei meriti come ti permetti Eva Robbins sconfetti ogni anno ma questo è assolutamente naturale la democrazia è anche il regno di tutti i cretini compresi bisogna metterla nel conto e Sant'Arcangelo c'era qualcuno c'era una solida difesa di questo principio te lo ricordi Giovanni con Cristina Garattoni Cristina Garattoni sindaco comunista ha mandato a quel paese l'ambasciatore cinese ragazzi non so quanti altri l'avrebbero fatto questo è andato a chiedere di sospendere lo spettacolo dei tibetani che protestava contro la nostra convocazione di un'assemblea che aveva previsto anche gli esoli eccetera e lei gli disse oh ma che vuoi vai chiedete a Prodi Prodi come si è comportato come si comporta nei confronti dei cinesi Prodi va in Cina a fare conferenze ricoperto di soldi di onori non era mica facile fare quelle cose Sant'Arcangelo era un'eccezione ma ne stiamo parlando 30 anni dopo allora ci sputavano in faccia adesso ne stiamo parlando con una certa leggerezza voglio dire ma allora non era così erano tragedie i partigiani tutti a Sant'Arcangelo i partigiani erano indignati piangeva la cultura come conflitto attrito confronto l'incontro l'incontro è mica diamoci un bacino l'incontro e diamoci un bacillo semmai chiedo se c'è qualche intervento se c'è qualche domanda o intervento vi cedo il microfono però parlare no no Fabio vi chiedo di parlare nel microfono perché stiamo registrando allora ciao Antonio buonasera a tutti io sono Fabio Bruschi ho fatto parte per più di un quarto di secolo del Consiglio Amministrazione del Festival o dintorni e questo anche negli anni di Antonio dunque a Sant'Arcangelo Antonio ha lasciato diverse eredità e non solo a Sant'Arcangelo ma a Sant'Arcangelo ne ha lasciata una alla quale io sono particolarmente affezionato e sulla genesi della quale mi piacerebbe sapere qualcosa di più di quello che so ero molto amico di Antonio Caronia che ci ha lasciati alcuni alcuni anni fa Antonio voleva dire tantissime cose cyberpunk un'ambigua utopia o qualcosa del genere eccetera eccetera detto questo qual è questa eredità l'eredità è che nel 1990 quindi credo nella seconda edizione del ritorno di Attisani arrivano a Sant'Arcangelo da Londra in realtà era un gruppo nomadico che si era anche insediato in altri luoghi in Europa e non solo ma insomma lo hub di questo gruppo era Londra questo gruppo si chiamava e si chiama tuttora Mutoid Waste Company era un gruppo nomade diciamo di tra l'altro il nomadismo un certo tipo di nomadismo nelle isole britanniche noi non lo conosciamo non sono zingari e con la Thatcher che era il potere da 11 anni 79 si trovavano in grosse difficoltà perché la Thatcher aveva fatto leggi draconiane per limitare questo tipo di fenomeni questo è il rendiconto che ho avuto da diversi di loro in modo particolare da Nicky un'altissima cavallerizza scozzese la domanda è questa Antonio tu come sei venuto a contatto con i Mutoid e in questo contesto c'è stato un ruolo e se sì quale di Antonio l'altro Antonio Caronia e con questo mi interessa moltissimo i Mutoid li ha segnalati al festival Daniele Brolli che li conosceva ce li presentò li andammo a conoscere fumo immediatamente d'accordo e li invitammo a Sant'Arcangelo i Mutoid ci sembravano parte di un movimento come dire prototeatrale o proteatrale cioè assolutamente pertinente non come un fenomeno un fenomeno esterno certo avevano una loro idea anche comunitaria e una loro estetica basata essenzialmente sul gioco ma erano anche cosa che è stata poco rilevata erano degli artisti degli artisti ricercatori degli artisti che perseguivano una poetica determinata questa costruzione di macchine immaginarie e dall'essere invitati semplicemente al festival così sono diventati la presenza più stabile di Sant'Arcangelo perché sono ancora lì dopo 30 anni gli unici a fare l'attività permanente sono loro vedete appunto non si possono un festival non è un progetto intelligente col cavolo un progetto intelligente è una cosa chiusa è un modo di seminare un festival deve essere un modo di seminare non bisogna prevedere i risultati bisogna seminare le cose giuste seminare con intelligenza i risultati sono sempre imprevedibili Caronia è nato così il rapporto con Caronia Caronia era uno degli invitati avevamo fatto una cosa insieme all'umanità aria un piccolo festival multimediale uno degli invitati a una rassegna milanese che si chiamava rassegna milanese con ospiti nella quale c'erano anche le albe Caronia era presente con la sua cosa lì conobbe le albe e nacque un rapporto di collaborazione con le albe furono le albe poi a invitare Caronia a Bagna Cavallo altra capitale del teatro europeo a realizzare alcune cose apparentemente estemporanee in realtà erano tutte sinergie erano tutti incontri appunto incontri fra diversi ma viva Dio noi non avevamo il culto del gender che adesso è subentrato e che si sta trasformando questo mondo in una serie di ghetti e di corporazioni per la testimonianza negli anni del triennio c'è stato un altro progetto fallimentare ma altrettanto interessante che era questo festival che tu hai diretto insieme a Umberto Artioli e Bartoli a Mantova che era un festival che stava un po' in contrapunto a Sant'Arcangelo era una situazione consimile di teatro all'aperto di piazza di convocazione di pubblico e però in situazioni economiche progettuali anche totalmente differenti mi chiedo siccome molti gruppi che partecipavano alla tua Sant'Arcangelo hanno avuto una sorta di vita lunga a Mantova quindi anche mischiando le carte di quel progetto mantovano che aveva tutt'altri numeri tutt'altri budget e così via mi chiedo come abbiano lavorato in termini progettuali artistici nel tempo questi due progetti nel tuo lavoro di direzione artistica si susseguono nel tempo si susseguono nel tempo Mantova segue Sant'Arcangelo io sono il tre d'union sono stato il tre d'union tra Sant'Arcangelo che pure era frequentata da Umberto Artioli non da Bartoli perché era già malato ma da Umberto Artioli che era anche membro del comitato scientifico di Sant'Arcangelo e il festival di Mantova che era loro la loro città loro erano delle personalità pubbliche Artioli quando è morto era candidato sindaco era il futuro candidato sindaco di Mantova quindi io sono stato il tre d'union quello che ha permesso loro di conoscere alcune compagnie alcune realtà tra cui la tua perché Stefano Tomasini abbiamo realizzato nel cortile del Palazzo Ducale nel cortile dove probabilmente ha operato Monteverdi abbiamo realizzato un Orfeo Virgilio d'Autunno una roba folle con motociclette giubbotti di cuoio e varie cose che però era molto molto rispettosa perché lui è un filologo quindi non era una provocazione era una sperimentazione poetica sì poi parallelamente a Sant'Arcangelo non abbiamo detto c'era questo festival nel festival dedicato a compagnie giovani o giovanissime in cui per esempio c'era la compagnia di Stefano ma anche i Motus quando ancora non si chiamavano Motus opera dell'ingegno Maurizio Lupinelli tantissimi artisti che stavano emergendo stavano proprio muovendo i primi passi in quel momento venivano accolti in questa sezione che si chiamava spazio proposta quindi anche insomma una funzione di non solo di consolidamento dei gruppi che dagli anni Ottanta andavano seminando e poi proliferando per le loro strade ma anche di apertura a chi stava facendosi la scena in quella fase lì sono Giovanna ciao Antonio ciao tu pensi che si possa definire la direzione di allora come una direzione autorale nel senso che la direzione aveva un segno così forte da imprimere una sua autoralità beh il direttore artistico di una artistico di una istituzione come il Festival del Sant'Arcangelo il 90% del suo lavoro è un lavoro da bidello organizzatore è un lavoro amministrativo cioè non è un lavoro artistico il 90% del tempo se ne va per altre cose però fatalmente organizzare un festival cioè decidere chi c'è chi non c'è che cosa fa significa fare la regia dell'evento quindi un ruolo autorale bene o male ce l'hai anche se non vuoi averlo anche se pensi di non averlo anche se fai il modesto ce l'hai ce l'hai io cercavo di farlo in base a quei principi però sempre bestemmiando come un turco per la mancanza di mezzi e la mancanza di tempo sì certo sei un autore sei costretto ad essere un autore innanzitutto grazie per questo incontro e la mia domanda è più personale che cosa ti ha lasciato la direzione di Sant'Arcangelo e quanto ha contato poi nel tuo ricco percorso professionale e se oggi tu venissi chiamato a dirigere un festival lo faresti oppure no che cosa mi ha lasciato è probabilmente qualcosa che si vede ma che io non so qualcosa che è diventato la mia carne quello che sono quando l'esperienza di Sant'Arcangelo è finita per me è stata una liberazione perché andare a fare la professore universitario ho scoperto è stato come vincere la lotteria avere uno stipendio decente e essere assolutamente libero per la prima volta in vita mia libero di studiare per esempio io ho cominciato a studiare nel 1992 i 25 anni precedenti ho lavorato come si diceva come un negro una volta ho lavorato in nero in nero però questo si può dire perché è scientifico senza un soldo di contributi quindi quando ho cominciato a fare il professore universitario ritenevo di aver ho scoperto di aver vinto la lotteria e ho scoperto il mestiere che mi piaceva moltissimo che cosa mi abbia lasciato il festival boh chi lo sa probabilmente sicuramente tanto perché tra l'altro è stata una scelta esistenziale vivere a Sant'Arcangelo cinque anni insomma io sto dove si lavora secondo me bisogna stare dove si lavora non capisco gli ecleti che stanno in una città vanno a insegnare in un'altra non li capisco e quindi certo certo che mi ha segnato oggi non so se dirigerei un festival so che però ho la presunzione di sapere con la serenità dell'anziano che cosa si potrebbe fare ed è qualcosa di relativo a quel movimento a quella dinamica che cercavo prima di indicare sì sono Teresa una domanda sull'aver invitato la compagnia con Andrea Adriatico che faceva praticamente in residenza creativa e quindi diciamo in questa idea anche di lavoro immagino annuale che si voleva fare e la cosa in particolare che ti volevo chiedere è se ti ricordi di questo spettacolo che era Opla noi viviamo dove in sostanza si costruisce questa strada un'autostrada forse all'interno dello sferisterio quindi diciamo uno spazio come dire un'idea di metropoli dentro uno spazio storico e quindi se puoi dire qualcosa di intanto di questa idea di aver invitato Andrea Adriatico e anche di questo spettacolo in particolare Andrea Adriatico l'ho conosciuto in una soffitta di Bologna faceva un testo di Pasolini piccolissimo con Iris Feigel e ho capito subito che era un talento registico lui era ancora studente e con uno dei colpi di coda che allora mi potevo concedere gli ho dato grande spazio a Sant'Ercangelo la produzione principale del festival lui se ne ha approfittato giustamente bene alcune cose non ha potuto realizzarle in quello spettacolo lui voleva che arrivasse un elicottero ma un elicottero allo sferisterio non può arrivare perché c'è il muro è pericolosissimo venne il pilota a fare il sopralluogo e disse no ragazzi non posso qui ci resto sicuramente ma lui è un geniale inventore di spazi e lì lo ha rivelato per la prima volta lì lo ha rivelato per la prima volta ogni suo spettacolo ancora oggi credo è innanzitutto l'invenzione di uno spazio che è uno spazio poetico è uno spazio che produce senso produce significati e ha continuato la sua carriera quando nel 93 io ho dovuto ho voluto lasciare il festival perché volevo dedicarmi all'insegnamento universitario non ritenevo di poter fare le due cose insieme indicai a Marina Garattoni lui come futuro direttore ho detto secondo me sarebbe la persona giusta Marina Garattoni era innamorata di Leo di Berardini Cristina cosa ho detto a Marina la cugina Cristina era innamorata culturalmente ovviamente un amore un amore culturale un amore politico di Leo giustamente procedettero in quel senso ma secondo me sarebbe stata la scelta più giusta perché un giovane come Adriatico avesse ripreso il lavoro da quel punto mentre Leo è stato un po' più simile a me in un certo senso cioè realizzava dei sogni irrealizzabili invece con Andrea si sarebbero fatte delle cose più anche pop se vogliamo Giovanna è stato un dispiacere per te non lasciare un'eredità cioè in fondo Adriatico poteva essere come dire un tuo erede no? un passaggio di consegne che in qualche modo rappresentava ancora delle possibilità creative sì certo sì sì allora fu un dispiacere però poi nel corso del tempo ho imparato che è sbagliato a farsi delle aspettative anche nell'insegnamento universitario non bisogna mai aspettarsi dei risultati bisogna soltanto seminare al momento del raccolto non ci sei non ci sei tu il raccolto si fa altrove in un altro tempo in un altro luogo quindi è che la gratitudine non è di questo mondo anche questo imparato sì grazie grazie no grazie a tutti e al Teatro dell'Elfo a Sant'Arcangelo dei Teatri per aver permesso questo incontro molto bello e grazie a voi per essere venuti e essere anche intervenuti grazie a tutti 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 grazie a tutti